Straordinario insediamento, unico per la sua tipologia, una fortezza che ingloba al suo interno il Nuraghe. È parte del parco archeologico di Monte Sirai, Nuraghe Sirai. Il villaggio interno è fortemente dedicato alle attività artigianali e qui è stata rinvenuta la più antica officina per la produzione del vetro in Sardegna. L'area archeologica di Monte Sirai comprende, come ho detto, la fortezza del Nuraghe Sirai, di un periodo tra il 625 e il 550 a.C. e l'omonimo Nuraghe, di un periodo tra il 1400 e il 900 a.C., inglobato al suo interno. Unico per la sua tipologia, un villaggio fortificato, questo insediamento è cinto da possenti terrapieni di tipo orientale, testimone il risultato dell'integrazione di una comunità sardo-fenicia, come mostra l'architettura mista delle costruzioni e le ceramiche d'uso ibride. Il villaggio interno è fortemente dedicato alle attività artigianali e, in questo ambito, come detto, straordinaria è la recente scoperta della più antica officina per la produzione del vetro ritrovata sul suolo sardo. Nel villaggio sono state rinvenute anche fornaci per la cottura della ceramica, per la calce, un atelier per la lavorazione delle pelli e resti di lavorazione dei metalli. L'insediamento è di fondamentale importanza per la conoscenza del periodo più tardo della civiltà nuragica, ferro secondo dal 730 al 510 a.C., che coincide con il culmine della presenza fenicia nella Sardegna. Cosa vuoi dire? All'esterno della fortezza potrai ammirare il circuito delle possenti fortificazioni, 6 metri di spessore, la fornace per la ceramica, il magazzino e la porta pedonale di accesso alla fortezza. Al suo interno, poi, sono imperdibili l'area sacra con l'officina del vetro, l'atelier per la lavorazione delle pelli e, in generale, l'originale architettura visibile negli elevati ottimamente conservati. In cima al villaggio si giunge poi ai piedi dell'imponente nuraghe. Qui resterai meravigliato dalle sue cortine murarie, costruite con blocchi di grandi dimensioni, le possenti torri e il mastio.